Perché sabato e domenica ci aspettano un weekend importante per quanto riguarda la spada, i campionati europei del circuito Under-23 di spada. È un evento che, parlavo prima con Nelson Toran, per grandi numeri, perché si parla praticamente di quasi 500 atleti tra maschi e femmine più accompagnatori e tutto quanto muovono le portate di persone che arriveranno comunque a gusto. E quindi noi ci apprestiamo a dargli il benvenuto. Sicuramente sarà una manifestazione ben organizzata come tutte quelle che vengono organizzate da voi che ormai, come dicevo prima, siete diventati comunque un'eccellenza. La cosa bella è che, oltre a seguire le gare, che saranno importanti perché si assegnano i titoli di campioni europei, c'è anche la possibilità di visitare quello che è un fiora d'occhiello, il Museo Algorà della Scherma, che è praticamente attaccato e quindi c'è questa possibilità. Ed è un bel biglietto da visita per la città del gusto. Quindi noi siamo orgogliosi, vogliamo esprimere la vicinanza all'Europatia, al Museo, e siamo orgogliosi di ospitare un evento di così tanta rivelevanza. e c'è la parola, vuole maestro Toran, come volete, che vi illustrano il programma di questi due giorni intesi di sport. Buongiorno a tutti. Molto semplicemente queste due gare ormai fanno parte, direi, di una tradizione, perché ci sono molti anni che le facciamo. Un dato rilevante è che il numero dei partecipanti è sempre in crescita, il che è anche segno del gradimento che c'è per l'accoglienza e per l'organizzazione che trovano a gusto. Tanto è vero che non ce la facevamo più a fare insieme, come abbiamo fatto in passato, le gare dei master o le gare dei disabili insieme a queste. E abbiamo dovuto concentrarci solo su queste. I numeri che avevo dato in una prima comunicazione sono cresciuti perché le iscrizioni erano ancora in corso e ad oggi, quindi io poco fa li ho stampati insieme alle nazionalità, mi ritrovo con 234 atleti maschi provenienti da 22 nazioni e 198 femmine provenienti da 20 nazioni. e sono un numero notevole, ma non basta perché come è stato detto un attimo fa, c'è un indotto notevole perché queste persone vengono con le rappresentative nazionali, con gli accompagnatori, tecnici e non tecnici, e quindi c'è un giro di persone notevole che la cronata dorme, mangia, visita, ha possibilità. Diciamo che vi devo sersì. Conosciò tutta sì, c'è gente che ci chiama, ci telefona per sapere cosa è possibile fare, cosa è possibile vedere. Forse un'altra cosa che è interessante dire, oltre alla presenza del museo, che permetterà appunto visite, oramai un museo ben conosciuto nel mondo della scherma, e il fatto che la società deve sopportare un impegno molto oneroso, perché la federazione in questo non ci aiuta, in quanto il calendario federale negli stessi giorni propone un'infinità di date. Ora è una società molto specializzata, che fa solo una cosa, bene se la capo, è una società che è presente in tanti campi e nei problemi, perché ha degli istruttori, dei maestri che devono andare in giro. Per farvi un esempio, io domani parto per Roma, dove alcuni cadetti partecipano a una prova del circuito europeo Under 17 a Roma. Avrei dovuto essere per gare dei master mia a Cividale negli stessi giorni, e non ci andrò perché non si può fare tutto. Marco Marvezzi è a Bordeaux con Marta Camilletti per la gare del circuito Open, il gruppo della Scherma Storica da Treviglio per un corso che non si poteva rimandare, insomma, per dire che, ma grado tutto, cerchiamo di farcela e cerchiamo di farcela bene, però questo perché non sempre ci si rende conto dell'impegno che c'è dietro queste cose. Bene, penso che vi avete detto abbastanza.